Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata dalla nostra serie di Minecraft Survival Allora, siamo un attimo qui perché teoricamente abbiamo finito quella cosa lì che non vi faccio vedere subito Perché dobbiamo passare su questo ponte, andare subito subito e vi faccio vedere che abbiamo completato quasi tutto In realtà, mi manca giusto un pezzettino che però ora faccio, devo tornare anche con la cobe se non ricordatemelo A parte questo, questa è l'entrata principale, si entra in questo piccolo posto che abbiamo creato Che come vedete è già pronto 100%, ho fatto anche la cappana di sopra che poi andrò a sistemare dopo con del vetro E mi manca soltanto da mettere giusto di lì un po' di acacia wood planks, mettere anche lì perché teoricamente mi manca E poi riempire il tutto con un secondo strato che farà tipo da ponte e sarà una parte per poter comunque passare al secondo stato Che in realtà avrà delle chest, penso metterò le chest di sopra, mentre di qua ci saranno mucchette e cose del genere un po' a caso E pensavo, visto che ci sono, che mi conviene fare una cosa molto molto importante, nemmeno fare tipo la suddivisione come pensavo Ma andare a distruggere tutta questa cosa qui sotto, mettere dell'erba qui che poi in terreno dovrebbe crescere appena possibile Appena farò un piccone in così touch, cosa che apparentemente farò tipo appena andrò a scavare perché mi servono dei livelli E fatto il piccone in così touch possiamo ufficialmente iniziare a piazzare qui anche la terra che diventerà ovviamente poi grass block E qui invece avremo tipo qualcosa che ci permette di fermare l'uscita delle mucche, visto che qui dentro ci metteremo principalmente mucche E basta, forse se riesco anche un po' di pecore, però insomma sarà un macello giusto iniziale e poi in realtà non le ucciderò Almeno non subito, poi quando avremo una buona scorta di mucche qualche strage la faremo, non preoccupatevi Vi faccio notare da lontano quanto è bello l'accostamento di quella struttura, poi con questa qui che sarebbe la nostra casa, il nostro magazzino E poi c'è questo bellissimo granaio che è anche parecchio bello da vedere perché è bello grandicello, però è pur sempre tipo un chunk Quindi è tanta roba, penso comunque di fare la fin fine da questa parte la struttura delle galline O tipo qua, insomma per dare un po' di spazio al tutto così che non sia tutto attaccato E ora sto prendendo un attimo la dirt come potete vedere perché sto iniziando a piazzarla un pochetto qui dentro Visto che almeno per ora mettiamo la dirt normale e poi quando avremo sick touch ovviamente andremo a posizionare in diverse altre zone Quindi cerchiamo di fare del nostro meglio per piazzarne più che possiamo E in realtà io mi aspettavo che bastasse uno stack sinceramente Ma mi sa tanto che uno stack non basta per nulla proprio Infatti tipo a me ne serve sicuramente almeno più di uno stack Azz, pensavo meglio, vabbè, ci scialli ragazzi, ci ne è un attimo giù a questo punto Andiamo nella nostra miniera e troviamo un bel posto dove c'è un bel po' di dirt così possiamo raccogliere da là Visto che effettivamente non mi ero reso conto del fatto che quella cosa non bastava Ed ecco qua completo il tutto, perfetto Ora cosa voglio fare? Voglio andare a piazzare un paio di ale bale Che poi in realtà credo si chiamano così in inglese In italiano, cosa sono? Sono mucchie di paglia più che altro Sì dovrebbe essere quale l'idea, però non so esattamente come si chiamano Magari c'è tipo un nome specifico in italiano Spero che io tipo gioco in inglese a Minecraft Quindi giustamente i nomi li sono in inglese E boh, se sapete magari quali sia il nome in italiano Schiamatelo qui sotto nei commenti, ragazzi Sarei molto curioso di capire come è in sostanza E devo recuperare tipo tutta questa roba Perché oltre al fatto che mi serve per in qualche maniera portare i dia ai nostri amici Oltre questo devo comunque recuperarne un bel po' Perché mi servono per cose piuttosto utili Tra cui la fabbricazione di quella roba che vi dicevo prima Bene, quindi andiamo a fabbricare un po' di roba Facciamoci, vediamo un po' quanti Sette di questi Io direi facciamone ancora un po' di più E sono come vi dicevo le high bale E dobbiamo farci più o meno giusto roba che ci serve Vediamo un po' quanti noi c'è da fare in totale Vabbè, lasciamo le due giusto per farli formicolari insieme Diciamo che devono fare cose piuttosto brutte tra loro E tipo, vabbè, avete capito E questi dodici invece andremo a piazzare in un posto giusto Per dare un po' l'idea che sia pur sempre un granaio Ovviamente li metteremo anche sopra Li metteremo di più sicuramente quando ne avremo in futuro Però è giusto un primo inizio per iniziare a decorare La mia idea è tipo di metterli più o meno così Almeno laterali per ora E poi sistemarli meglio Teoricamente quello sotto lo potevo anche togliere Che tanto non serve teoricamente questo qua E anzi, se abbiamo la fortuna Cosa che sicuramente dovremmo riuscire a fare Possiamo anche tipo piazzarli così E recuperiamo un altro in più Che possiamo mettere nell'altro lato Quindi abbiamo fatto tipo una cosa in più Perfetto in questa maniera Ecco, vedete, quindi abbiamo creato una prima zona di paglio Ovviamente bisogna mettere altre cose Bisogna fare anche in qualche modo i cancelletti per entrare Per questo proprio andrò a prendere un po' di legno Così possiamo finire anche teoricamente tutto il resto Recupero anche un po' di copia E dall'altra parte mi sa che dobbiamo salire in modo diverso Perché non possiamo salire per ora Vabbè iniziamo per ora a piazzare questa roba così In questa maniera Ma se questo devo farlo un attimo più alto Non ne sono sicuro sinceramente Sono abbastanza soddisfatto di questa cosa Che in realtà non avrà un vero e proprio modo per salirci Però è giusto una cosa bella da vedere Perché teoricamente fa finta che gli escano cose Dovrebbe essere quella l'idea Però non ne sono sicuro Devo ancora decidere quale sia il vero e proprio utilizzo di quel coso E adesso che ho fatto questa cosa Possiamo un attimo andare di nuovo qua A rompere questa roba qui Effettivamente potevo scendere di qua Così che non robevo due volte tipo questo coso Ma fa nulla E finiamo adesso i vetri dall'altra parte E quindi tadan ragazzi Ho finito tutto quanto Adesso devo stanto spostare le nostre mucchette Lo faremo sicuramente subito Facendole venire un attimo di qua Venite mucchette Passate e mangiatene tutti Teoricamente no Non devono mangiarne tutti Però se riescono a passare Forse vi conviene un attimo Far finta che devono passare di qua Perfetto in questa maniera Diamo un po' se riusciamo a farle spostare Adesso Eh mo sono stupide Non mi calcolano Devo un attimo aspettare che si ripigliano E le spostiamo tutte da una parte Dai su su Guardate ce li ho qua Eccole qua bravissime Venite da me Venite E state per entrare nella vostra nuova casa Che sarà molto più accogliente Sicuramente rispetto a quel buco lì dietro Ma insomma è sempre la stessa cosa Quindi entrate Bravissime Guardate che sono belle ragazzi Tutte e quattro insieme In questa maniera Perfetto E adesso sarete qui Per sempre Divertitevi E copulate tra voi Anzi una cosa che voglio fare Sicuramente è dare da mangiare E se riesco a dare l'altro a qualcuno A meno copro un altro a loro E fanno un'altra mucchetta Che bravi che siete Ah che bello Finalmente Questa è abbastanza abbondante Mi servirà in realtà L'altro legno Per fare il secondo piano Però mi serve Il legno Nero Che poi in realtà sarebbe il dark E dovete recuperare quasi quasi Tanto sono slab La fin fine E potrebbero essere utili Spero in realtà Di poter mettere sopra Roba È un po' difficile In realtà Le slab lo devo mettere Tipo più sotto Così che Possa metterci le chest Sopra Sennò poi non avrebbe senso Più o meno questa è l'idea Devo tanto fare al massimo Giusto qualche pilastro Per rendere il fatto che Comunque sono Diciamo messe lì E in qualche maniera Sono Sono rette da qualcosa Ma non è importante A meno per il momento Tanto in minecraft In realtà Non c'è bisogno Di fare le cose per forza In una certa maniera Adesso ci facciamo Giusto un bel po' Visto che ci siamo Di stick Così possiamo puntare A farci questa roba qua Ora vi faccio vedere Delle ladders Me ne servirebbero in realtà Non troppe Quindi un attimo Che ne facciamo Giusto nove Nove basta Ne avanzano Penso proprio di sì In realtà E le andiamo a posizionare Qui dietro Tanto le mucche Non possono salirci Teoricamente Noi invece sì In questa maniera Quindi saliamo Perfetto E questa dovrebbe essere Più o meno La nostra zona Una cosa che voglio fare Sicuramente E fare in questa maniera Quindi allarghiamo Giusto di uno Allarghiamo Perché allarghiamo di uno Perché teoricamente Mi conviene Così che possa mettere Comunque giusto i pilastri Fatti di questa legna Sotto Almeno nelle parti In cui vorrei E però Insomma non lo so Sono un po' deciso Ditemi questo nei commenti Se vorreste vedere Uno i pilastri Perché è una cosa Che potrei mettere Come non potrei Potrei anche evitare Di farlo Tanto non è importante Come vi dicevo L'importante Per il momento È fare almeno una cosa Che comunque Sta sopra Perfetto Quindi in questa maniera Eccola qua E abbiamo a disposizione Quindi adesso Un secondo piano Per il nostro tutto E questo è il nostro Granaglio Con dentro Un bel po' di mucchette Che sono niente male Dovrebbero aumentare Pian piano Teoricamente Spero che nessuno Le venga a uccidere Ma in pratica Non dovrebbe succedere In ogni caso ragazzi Io prima di tutto Vi saluto Ditemi sui commenti Che se ne pensate Nel nostro granaglio Vi metto un attimo Qua a sinistra O a destra in realtà Perché Stiamo tipo Verso il ponte Quindi a destra Per farvelo vedere Questa è tanta roba Vediamo un attimo Come si vede Da sopra casa nostra Perché tutto il panorama Si può vedere anche Dal nostro balconcino Bello carino Ok ci sai Molto bello Molto surreale Comunque Dà un po' l'idea Della nostra vita campagnola Di dentro ci vedete Che qualcosa Ma dovrei fare magari Un coso che gira Teoricamente In ogni caso Questa però Nel nostro mondo E più e più Lo aumenteremo Noi ci vediamo comunque Presto nella prossima puntata Da lui è tutto ragazzi Ciao ciao E al prossimo video Ciao ragazzi